In questo video ci occupiamo delle proposizioni interrogative indirette, quindi quelle subordinate che sono introdotte da domande indirette. Sono quindi pronomi oppure anche delle particelle interrogative che normalmente cominciano con la V doppia. Però abbiamo anche il sì della domanda indiretta, che in questo caso è OP. Fragen können direkt oder indirette sein. Quindi le domande possono essere dirette o indirette, ma che cosa si intende? La domanda può essere questa. Wo befindet sich die Ringstrasse? Ma dove si trova la Ringstrasse? Lo sapete? Beh, lo dovete chiedere a qualcuno. Ecco, nella domanda indiretta si può ad esempio dire können Sie mir sagen wo sich die Ringstrasse befindet? Mi può dire per favore dove si trova la Ringstrasse? Ma che differenza c'è nella struttura grammaticale tra la domanda diretta e la domanda indiretta? La domanda diretta è wo befindet sich die Strasse. Quindi il verbo si trova in seconda posizione. Prima abbiamo la parola interrogativa, in questo caso dove, wo, e poi abbiamo il verbo. Nella domanda indiretta invece il verbo si trova alla fine, perché le domande indirette sono delle fravi subordinate. Notiamo quindi il verbo alla fine della frase. Quindi le domande possono essere dirette o indirette. Ricordatevi quindi la struttura delle due frasi. Ma cosa succede nella trasformazione dalla domanda diretta alla domanda indiretta? Semplicissimo. Wo befindet sich die Ringstrasse? Questa è la nostra domanda diretta. Dove si trova? Avremo qui una domanda indiretta, la parte della frase principale. Können Sie mehr sagen wo sich die Ringstrasse befinde? Dove si trova la Ringstrasse? Normalmente il soggetto va subito dopo l'elemento interrogativo, ma in questo caso abbiamo un pronome riflessivo. Ecco, quando abbiamo un pronome riflessivo, il pronome riflessivo precede il sostantivo nelle domande indirette. Quindi dovremmo dire wo sich die Ringstrasse befinde? Se invece avessimo avuto il verbo essere, quindi una frase normale, wo ist die Ringstrasse? Können Sie mehr sagen wo die Ringstrasse ist? Non abbiamo evidentemente avuto questo sich. Notiamo quindi questo verbo, il verbo, che è alla fine. Ecco, in questo caso abbiamo Können Sie mehr sagen e abbiamo quindi una domanda. Abbiamo quindi Können Sie mehr sagen e il punto interrogativo alla fine della frase. Proprio perché c'è Können Sie mehr sagen. Mi può dire, nel caso appunto con ich weiß nicht, poi alla fine non avremo più il punto interrogativo alla fine, ma avremo un semplice punto, perché la domanda è sì indiretta, io non so dove si trova la Ringstrasse, avremo comunque il verbo coniugato alla fine. Le domande indirette possono essere introdotte da cosiddetti pronomi interrogativi, che sono appunto wer, ich frage mich wer dieser Mann ist, mi chiedo chi sia questo uomo, o was, che cosa, ich verstehe was du damit meinst, capisco cosa intendi con questa cosa, oppure wem, a chi, ich weiß nicht, wem du dabei geholfen hast, non so chi hai aiutato, oppure ancora wen, l'accusativo di wer, ich weiß nicht, wem du geholfen hast, non so chi hai salutato, o anche wessen il genitivo, ich weiß nicht, wessen put das ist. Ecco, sono tutte domande indirette, perché abbiamo la principale, ich frage mich, ich verstehe, ich weiß nicht, e poi abbiamo la domanda indiretta. Abbiamo quindi i verbi alla fine della frase. Le domande dirette sarebbero state, wer ist dieser Mann, was meinst du damit, wem hast du geholfen, eccetera. Vedete quindi il verbo in seconda posizione. Oppure abbiamo anche, nelle domande indirette, questi Fragewörter, quelle particelle che cominciano con la W, come wann, ad esempio, quando, ich frage ihn, wann ihr nach Hause kommt, quindi gli chiedo quando viene a casa, wo, dove, ich weiß nicht, wo sich das Kino befindet, woher, da dove, ich weiß nicht, woher diese Frau kommt, non so, da dove viene questa Signora, wie, come, ich weiß nicht, wie es ihm geht, non so, come sta lui, warum, perché, ich weiß nicht, warum du traurig bist, non so, perché sei triste, oppure welch, poi declinato, ich weiß nicht, welches Buch du gekauft hast, non so quale libro hai comprato, wie lange, ecco, quelli che cominciano con wie, come wie lange, wie oft, wie spät, eccetera, ich weiß nicht, wie lange er im Urlaubplan, non so quanto tempo rimane in vacanza, wie spät, ich weiß nicht, wie spät es ist, non so che ore sono. Quindi, nell'interrogativa indiretta, quando, dovrò tradurlo con wann, e non con wenn o con als, è una domanda, ma è indiretta, e quindi è una subordinata, ich weiß nicht, wann ihr Geburtstag hat, non so quando ha il compleanno, dobbiamo festeggiare, also wir möchten doch feiern, quindi non si può usare wenn, attenzione, è sbagliato, wenn è la risposta alla domanda con quando, quando andiamo, non so, in vacanza. Attenzione quindi non sostituire questo wann con wenn nella domanda indiretta, è sempre soltanto wann. Se invece non abbiamo nessuna parola interrogativa con la widoppia nella domanda diretta, utilizzeremo ob nella domanda indiretta. Infatti, ich weiß nicht, ob ich morgen zur party komme. Questa è la nostra domanda indiretta. La domanda diretta sarebbe stata Kommst du morgen zur party? Può avere evidentemente due risposte. Sì, ja, ich komme morgen zur party. Oppure nein, ich komme leider nicht zur party. Quindi, se abbiamo una domanda diretta la cui risposta è ja o nein, quindi ha una ja-nein frage, come si dice in tedesco, dovremmo utilizzare la congiunzione op nella domanda indiretta. Abbiamo visto in questo video le interrogative indirette, che cominciano quasi sempre con la widoppia. Se nella domanda diretta abbiamo questa particella, wann, seit, wann, wo, wohin, wo, ir, vi, vi, spät, warum, eccetera, eccetera, utilizzeremo anche questa particella nella domanda indiretta. Attenzione, la struttura sarà quella di una frase subordinata. Se invece non abbiamo nessuna particella nella domanda, utilizzeremo il se, che si traduce in questo caso con op.